Il Comune di Pordenone ha approvato in tempi record il bilancio di previsione 2023, dimostrando di tenere i conti in regola e garantendo gli stanziamenti per continuare ad offrire opere e servizi alla città senza tagli e senza aumentare il carico fiscale per i cittadini. Abbiamo approvato in tempi record il bilancio, credo che siamo il primo Comune in Friuli Venezia Giulia ad approvarlo. Questo consente di essere immediatamente operativi visto le tante scadenze e impegni che ci siamo presi. È un bilancio che nonostante il momento di difficoltà aumenta gli stanziamenti per le politiche sociali, prevedendo che saranno di più le persone che chiederanno aiuto e soccorso ai nostri sportelli, investe sui giovani con le politiche giovanili, sulle università, gli istituti superiori, investe nella scuola, non solamente nell'edilizia ma anche nel piano di offerta formativa e nella didattica, ma soprattutto è il bilancio che rispecchia la capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti attraverso i bandi. 68 milioni di euro di opere pubbliche a cui si aggiungono gli stanziamenti negli anni precedenti, quasi 100 milioni, che cambieranno in meglio il volto della città. Grazie.